La troupe di Teleioni è arrivata in Svizzera dove filmerà la festa della Madonna della Pietra organizzata dalla numerosa comunità di emigrati chiaravallesi in terra elvetica. Il consueto programma ricco e coinvolgente, promosso dal comitato guidato dal presidente Pino Gulli, inizierà nel primo pomeriggio di domani a concelebrare le funzioni religiose il parroco di Chiaravalle Don Roberto Celia. Siamo giunti alla sedicesima edizione, do il benvenuto a Teleioni che è arrivato proprio adesso, Don Roberto che è arrivato ieri insieme col sindaco dell'amministrazione comunale, ringrazio che siamo onorati con la vostra presenza e speriamo che quest'anno si concluda come gli altri anni, in modo bellissimo. Per me è proprio la prima volta che vengo proprio in Svizzera, è stata un'emozione anche perché l'amico Pino poco fa mi ha accompagnato a Schaffusen dove mio padre è stato emigrato per tanti anni, un'esperienza veramente emozionante, è veramente qualcosa di unico per me e poi anche un'occasione per conoscere tutti gli emigrati chiaravallesi e nonni. E poi, sa, la Madonna ci accompagna in tutti i luoghi e ci fa ricordare la bellezza di essere soprattutto un popolo. Sì, ci ritroviamo come ogni anno qui nell'Inktestine, veramente con grande piacere. Pino, ritrovarvi e devo dire sempre l'accoglienza molto calorosa che ci riservate. Anche questa bella visita che abbiamo fatto a Coira, dove oggi siamo stati ricevuti dal Presidente del Parlamento, del Grigione, con 120 parlamentari, dove hanno iniziato proprio la loro seduta, con il saluto al Sindaco di Chiaravalle. E questo ci ha inorgoglito. Anche il Sindaco che vuole mantenere ferma, forte, questa vicinanza verso i calabresi e verso Chiaravalle in modo particolare. Io non ho parole, veniamo sempre con tanta gioia qui a voi, a starvi vicino. E devo dire che da parte vostra c'è un'accoglienza sempre più calorosa. E questo veramente dimostra come voi veramente tenete alla vostra terra, alle vostre tradizioni, alle vostre culture, alla nostra cultura, che poi tramandate e portate qui, in questa terra dell'Inktestine.